A presto, alle stanze del tesoro. A presto, alle stanze del tesoro. A presto, alle stanze del tesoro. Flavio ! Tiratemi indietro ! Forza, andate ! Cerchiamo di metterci in salto. Sì, ma anche di salvare loro di marzo. Aiutaci a scappare. Vi guiderò io a un battello, se vi aiutate a salvare loro. A presto, alle stanze del tesoro. A presto, alle stanze del tesoro.